Vicino a Mosca è stato arrestato un uomo sospettato di essere uno degli organizzatori dell'attacco alla metropolitana di San Pietroburgo, avvenuto lunedì 3 aprile. L'uomo è stato identificato come Abror Asimov, nato nel 1990 ed originario dell'Asia centrale. Si tratta della nonna persona che finisce in manette nell'inchiesta sull'attacco compiuto dal kamikaze kirghiso di 22 anni, Jalilov. Asimov è accusato di aver addestrato Jalilov a usare la bomba che fece esplodere in un vagone di un treno della metropolitana di San Pietroburgo. Una strage in cui persero la vita in 14. L'attentato è stato commesso nello stesso giorno in cui il presidente russo Putin era a San Pietroburgo.